Sul finire del dicembre scorso, le esternazioni di Flavio Roda, presidente della Federazione Italiana Sport Invernali, e di Sergio Schena, membro del CDA della Fondazione Milano Cortina, che all'indomani della due giorni di Coppa del Mondo di Bormio si congratulavano con gli organizzatori e con la Sib di Valeriano Giacomelli per la perfetta riuscita della Kermess, esortando però gli amministratori a spingere sul pedale del gas per la realizzazione delle infrastrutture per i giochi olimpici invernali del 2026. Ieri il comunicato nel quale Comune di Bormio e Gruppo Bormio 2026 fanno il punto di quanto si stia facendo e di come, quelle parole, si legge, siano state considerate uno sprone a muoversi nel più breve tempo possibile. Visto sia gli operatori sia le amministrazioni locali, per cui sono molto fiducioso che sia avviato un ITER che in realtà si era già attivato. Dobbiamo non farsi spaventare dal Covid o distrarre da altri elementi puntuali e continuare a metterci in impegno per raggiungere l'obiettivo. Di una cosa Sergio Schena si dice convinto, non verranno fatti errori commessi in precedenza e l'appuntamento dei giochi olimpici invernali andrà di pari passo con una valorizzazione dell'intero territorio di questa provincia. L'obiettivo è proprio quello di riposizionare l'immagine, riposizionare l'offerta e fare un salto di qualità anche di quantità delle presenze, ma soprattutto di qualità del target. Anche su questo, un po' come ci è arrivato qualche invito ad accelerare la progettazione della parte infianti, anche su questo l'invito che rivolgo io è a tutti gli operatori, le imprese, le associazioni, in qualunque parte sul territorio di iniziare a riempire di contenuti la nostra offerta, perché la cosa peggiore sarebbe di avere un grande strumento di marketing e comunicazione, ma non sapere cosa dire. Fondamentale dunque è l'utilizzo di storytelling che raccontino delle tipicità di questo territorio, dal settore ricettivo alberghiero a quello del comparto agroalimentare a quello storico e culturale, fino a ciò che meglio riassume tutte le peculiarità della nostra provincia, un ambiente montano unico per bellezza e del quale tanto, potenzialmente, c'è ancora da valorizzare. E sul tema delle differenze di passo tra Lombardia e Veneto in preparazione delle Olimpiadi e degli immancabili localismi, Sergio Schena è chiaro, al di là di piccoli sfasamenti nella pianificazione, non sussiste alcun tipo di problema. Il tema è di come allearsi e integrarsi rispetto a Cortina, rispetto al Trentino, rispetto a Milano, perché chi viene dal resto del mondo non vuole distinguere le differenze tra noi e gli altri territori, tanto meno le differenze all'interno del nostro territorio, ma vedono le Alpi, l'Italia come un unico paese e le Alpi come un'unica entità. Per cui noi dobbiamo essere alleati degli altri per avere una maggiore visibilità, perché alla fine è una dimensione tale che non c'è un problema di dividersi qualcosa, ma c'è un problema di riuscire ad avere un'identità e ad emergere. Ai comuni della provincia il rappresentante del CDA della Fondazione Milano Cortina lancia un invito. Lavorare insieme e riempire di contenuti questo grande progetto di marketing, perché la cosa peggiore sarebbe organizzare le Olimpiadi senza avere una nostra identità, senza riuscire a valorizzare la nostra cultura e la nostra differenza rispetto agli altri territori.